Ciao a tutti da Francesco Nanno di Scuolasuono.it, benvenuti a questo confronto sull'analogico digitale promosso in concomitanza con la riapertura del corso per tecnico del suono di Scuolasuono.it con noi abbiamo in linea Ruggero Poldi, Garage Studio. Ciao Ruggero, come stai? Ciao a tutti, bene grazie. Ciao Francesco. Allora hai ascoltato i nostri sample, il nostro confronto, noi vorremmo avere la tua opinione da tecnico, da esperto, da fonico, quale sei? Sì, ho ascoltato bene, un paio di volte sia in studio che a casa diciamo. Ti dirò, c'è una netta differenza tra i due mix. Mi senti? Sì, sì, come no? Sì. Ok, scusa. C'è una netta differenza, io preferisco di molto il mix di Ritmo e Blue, lo studio mi sembra si chiama. Quindi il mixaggio è analogico. Analogico. Sì. Sì, esatto, sì, sì. Come mai? Lo... Beh, ha un sacco di pregi che mancano nell'altro mix, a parte le ovvie magari differenze di bilanciamento fra gli strumenti che, vabbè, ognuno interpreta un po' come vuole. Là si va a gusto, insomma, è una questione di gusto più che altro, no? Per il bilanciamento sì, però per il suono proprio in sé, io la differenza la sento a favore dell'analogico in maniera decisa anche. E cioè, che cos'è esattamente quello che senti anche nelle diverse situazioni di ascolto, nelle quali hai potuto ascoltare? Beh, qui in studio la differenza è netta e soprattutto il suo discorso, diciamo, io la chiamo la tridimensionalità del suono, cioè la profondità di suono è decisamente diversa. E insomma, e anche i riverberi, ho notato che i riverberi sono più facili da sentire sul mixing analogico. E poi ho sentito che un'altra grossa differenza, penso che sia nella finalizzazione, nel mastering, che quello in digitale si sente che è stato schiacciato di più e suona, tra virgolette, si sente più forte. Però se li pareggio di volume va a finire che quello in analogico c'è più pacca. E quello in digitale è fermo lì, anzi ogni tanto ha proprio dei cali di intensità quando dovrebbe averne invece degli aumenti. Ma qui penso ci sarà una questione proprio di mastering. Però ho notato un po' di mix, un po' di mastering, una grossa differenza. Ho capito. Comunque tu, insomma, il confronto lo dai a favore dell'analogico in questo contesto. Sì, quindi in studio la differenza è netta. E a casa ho fatto un po' più fatica. A distinguere. Però, appunto. Comunque, un tuo pronostico virtuale, perché in realtà non abbiamo fatto questa prova, ma un tuo pronostico, se il fonico fosse stato lo stesso, le differenze le avresti sentite ugualmente? Cioè, secondo te sono imputabili proprio alle macchine analogiche? Oppure è una questione di utilizzo delle macchine e dei plug-in, eventualmente? Eh, mi serve fare un'altra prova. Ti dico, io ho per esperienza soprattutto i riverberi e sulle frequenze alte l'analogico surclass. Poi per il resto, indubbiamente, compressori, cose varie. So che se uno ci sa lavorare, ci si lavora molto, molto bene. Ma sulle frequenze alte e riverberi, ti dico, ho dei dubbi. Hai dei dubbi. Bene. Allora, grazie Ruggero di... come si chiama il tuo sito? www.garagestudiolive.com. Sì. Quindi www.garagestudiolive.com, sito di Ruggero Paul e del suo studio, Garage Studio. Grazie Ruggero per essere... scusa, c'è un po' di delay qua, di ritardo, non ci sentiamo bene, per quello ci sono questi buchi. Grazie per aver partecipato con noi a questo confronto e ci sentiamo con la prossima occasione, insomma. Prego. Ciao.